Ragazzone ragazzone benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Oggi ci troviamo in Ranked Reload in duo con il riempimento perché avevo voglia di giocare con qualche inglesino E soprattutto di giocare la modalità Reload che è una modalità che non gioco così tanto ma ultimamente me ne sono completamente innamorata Mi sono trovata come compagno di squadra un ragazzo chiaramente inglese che inizialmente era molto tranquillo ma poi durante la partita crede di averlo fatto innamorare Questo perché ragazzi ho trovato la pistola mammut durante la partita ovviamente in Reload E ragazzi io ve lo giuro ho fatto il devasto Cioè sparavo chiunque in edge shot in body kill su kill Tanto che il compagno che stava appunto in squadra con me era completamente sbalordito e non poteva crederci Quindi ragazzoli oggi mi sentirete appunto a parlare in tutto questo video chiaramente in inglese Quindi prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione in su per la vostra Queen di Fortnite Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto E vi ricordo che mi trovate live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Trovate il link qui sotto in descrizione Infine ragazzi mi raccomando se shoppate qualsiasi cosa dallo shop di Fortnite Vi ricordo di utilizzare il codice creatore CROATOMIS all'interno dello shop di Fortnite Vi ricordo che ogni 14 giorni viene automaticamente eliminato e quindi dovrete reinserirlo in maniera proprio manuale Se acquistate qualsiasi cosa dallo shop taggatemi su Instagram che vi riposto e vi mando anche un ringraziamento in direct su Instagram Ora però basta parlare e passiamo al video Io vi auguro una buona visione Charletton Can you hear me? Yo Hello man Nice Yeah I'm dead already It's fine it's fine don't worry No No Grazie a tutti. 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 Oh, I actually don't. I don't like football, to be honest. Okay. If I have to sympathize for, like, someone, I would go for Naples. You know, Napoli? Yeah. Forza Napoli, man. You good? Yeah. Got him. All right. There's hella kids on me. There's hella kids on me. Okay, just give me a second. I'm gonna come. He's on high ground. Okay, yeah, he's. I'm pushing him. One's running. One's running. Yeah. Yeah. I got one. Okay. Where are you? Where are you from in Italy? Uh, Caserta. You know Caserta? No idea. It's like near Napoli. I'm gonna aim plus away. Come here. I'm coming to you. White, white. I need two white. Okay, okay. Nice, nice. Good job. Hey, he crocked on high ground. Yep. Dead. Shit. You wanna come here? There's a lot of people. Uh, yeah. I'm coming to you. In one second. Good. Oh, he's dead. The one on the high ground is dead. With full damage. So, this is the last one. 72 blue on here. Yeah, yeah. Let's push him. Okay, he's dead. Shit. I got one. Nice, bro. You're crazy. Thank you, thank you, thank you. On me. Okay. I'm good. I'm going from the side. Okay. Guys, one shot. Dead. Nice, that's a good job. Mine, mine, mine. Thanks. Another team. Careful. I'm healing myself. I'm coming to you. Okay, I'm fine, I'm fine. It didn't work. It's fine, I'm here. Right here, right here. I'm in buff. Yeah, got him, Garmin. Nice, we go. Legendary Scar, do you want to take that? I'm splashing. Dead, dead, dead. Oh, good fucking job, man. Okay. All right, you can take this card. I don't want it. All right. Okay. It's two solos. It's easy win, man. Easy win. How much you lost? Okay. Oh, the crash button. Okay. Where could they be? Oh, shit. Oh, shit. He has a sniper. Yeah, it's fine, it's fine. You want to impulse? Uh, yeah. You want to go? All right, let's go. 34. 94 on the guy. Oh. Oh, I shot that. Nice. Okay. Back to him. Oh, my God. Fucking hit him. Where is he? Uh, agrant. Plenty white. I'm just waiting here. It's fine. You got him. All right. Nice. Almost there. Ah, that's fine. Easy game, man. Actually, every time, like, we win in Italy, we say, Mokka Mount. You know what that means? No, I don't. It's like, uh, it's like when you say in English, like, Gigi will play it, basically. Okay. It's like Mokka Mount. Mokka Mount. Yeah, that's pretty much it. Nice, man. Good job. We got it, man. Nice game. Sorry. All right, man. Have a good day. All right. Bye, bye, bye. Bisogna insegnare alle nuove generazioni, anche inglesi, quali sono le vere parole importanti della vita, capisci? Cioè, nel senso, è così che funziona. Non è che devo stare qua a dire chissà che cosa, capisci, no? Bene, ragazzi, siamo già al termine di questo fantastico video. Io spero che vi sia piaciuto. Come avete visto, abbiamo fatto letteralmente il devasto con la pistola Mammoth, che è letteralmente, veramente, veramente insana. Secondo me la pistola Mammoth è superiore a qualsiasi tipo di sniper, per la sua velocità, per il suo modo in cui si chiude appunto il mirino e per tante, tante, tante altre cose. Veramente troppo bella come arma, bellissima soprattutto la modalità reload con le ranked. E abbiamo fatto, ragazzi, una bella partita con l'inglesino che probabilmente si è innamorato di noi. Quindi, che dire, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E se volete vedere altri momenti proprio come questi, vi ricordo che vi trovate in live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. Ora, ragazzoli, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate perché chiaramente ci rimecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra creata miss è tutto. Bella a tutti, ragazzi.